Si intitola Marche dall'acqua alla tavola, il docufilm realizzato grazie ad un bando della regione Marche che ha come obiettivo quello di promuovere il consumo e la conoscenza del prodotto itico dell'Adriatico. Ad aggiudicarsi il bando è stata l'Agenzia Comunica SRL di Fano che avvalendosi della direzione artistica del regista Giampiero Solari hanno realizzato questo documentario della durata di 27 minuti con immagini in mare e testimonianze girate da giugno fino ad ottobre dello scorso anno. Giampiero che cosa troviamo all'interno di questo docufilm? Il rapporto che c'è dell'uomo col pesce, con il sapore del pesce e si trova veramente la qualità che c'è nelle Marche e soprattutto nell'Adriatico del trattare il pesce che viene pescato e nel trattare il pesce che viene pescato e come accadono una serie di passaggi perché poi questo pesce arriva a casa. In questo video ci sono anche delle testimonianze. Allora ci sono delle testimonianze dei pescatori e anche delle mogli dei pescatori perché come mi piace dire il mercato del pesce è gestito dalle donne e le donne raccontano come loro sono entrate a questo mondo e anche i figli. Ci sono donne che insegnano alle 7 del mattino in una scuola elementare e finiscono alle 5 del mattino di fare il mercato del pesce. Io trovo cose straordinarie che non conoscevo e la mia curiosità mi ha portato a quello. Io credo che questa curiosità ci richiamerà in tutto questo docufilm. Presenti nel docufilm anche lo chef di rilievo nazionale Mauro Uliassi che ha parlato del valore e delle caratteristiche del pesce pescato nell'Adriatico e l'Istituto Superiore Pranzini dove gli studenti hanno realizzato menù a tema. Il progetto ha visto il coinvolgimento dei porti di Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Civita Nova Marche e San Benedetto del Tronto. Queste filiere vanno rafforzate facendo conoscere, facendo promozione, comunicazione perché questo documentario che parla della filiera del mare, dalla pesca notturna alla ristorazione, alla scuola professionale. Siamo una regione che ha una quantità di chef stellati, di ristoranti di eccellenza che sono davvero una filiera gastronomica. Però non rischiamo di perderla perché dal lato l'Europa ci chiede di diminuire lo sforzo di pesca ma non dà una soluzione di continuità e quindi molti imprenditori della pesca magari non lasciano le barche ai figli e preferiscono addirittura dismetterle. Non so quanti soldi sono stati dati per la dismissione delle barche da pesca. Quindi riduciamo la quantità di prodotto sul mercato e contemporaneamente però l'assurdo è che nei nostri ristoranti, nei mercati itici, nei supermercati arriva il pesce da fuori Europa. Quindi questo è un po' l'assurdo che vive questo settore. Per questo film io mi auguro che i marchigiani lo possano condividere sui loro social e facciano in modo che diventi un motivo di orgoglio che dì anche valore e merito ai sacrifici di chi va in mare tutte le notti e che in qualche modo spinga i giovani a considerare questi lavori belli e vicini alle nostre tradizioni. Il docufilm che già da queste ore è disponibile su Youtube o sul sito markegoods.it è stato presentato questa mattina alla Casa del Mare nella zona porto di Senigallia. Senigallia questo è un luogo che ha appunto questa vocazione, cioè quella di promuovere il pescato e quindi il prodotto ittico delle nostre terre su tutto il territorio. E' quindi un momento di estrema importanza. Sono molto contento anche del docufilm che in qualche modo servirà per promuovere i nostri prodotti e quindi l'importanza soprattutto per la nostra città di un aspetto che ha una valenza sicuramente ambientale ma anche economica.